Maig Notizie, questo spazio lo dedichiamo ad Acquaviva Partecipa. Perché lo dedichiamo ad Acquaviva Partecipa? Perché ci piace la prima parte, quella che fa riferimento al nome della nostra città, Acquaviva delle Fonti, e perché ci piace poi il termine partecipa, la partecipazione, il partecipare ci fa pensare ad effetti positivi. Ma non vogliamo, lo abbiamo già fatto attraverso un editoriale, abbiamo già fatto un riferimento a chi è stato bannato, a chi è stato mandato fuori con il cartellino rosso, con l'espulsione, o forse nemmeno è il caso di dire col cartellino rosso, perché almeno in quella maniera chi va fuori sa che sta per uscire, sa che ha commesso un fallo. In questo caso invece i soggetti che sono stati bannati, che sono stati mandati via, non sono stati nemmeno preavvisati, almeno per quello che ci riguarda, e questo è il caso di Domenico Losacco, che ringraziamo di aver accolto il nostro invito. Noi ci siamo già incontrati per parlare dell'oncologico e in quell'occasione parlando del più del meno era venuto fuori questo aspetto di quello che era successo andando su Facebook. E quindi ecco come nasce oggi, ritornare sull'argomento, visto che ho fatto un cenno nell'editoriale, perché anche la Kodakons, un'associazione a tutela dei consumatori è stata bannata, mandata fuori. Acquaviva partecipa è un progetto di partecipazione attiva, secondo lei invece, visto che tra virgolette impiegava il suo tempo o perdeva il suo tempo, poi a seconda del soggetto, dell'osservatore che guardava o leggeva i vostri commenti, che cos'era questo progetto, che cos'era quest'Acquaviva partecipa? Per quale motivo ci andava a scrivere insomma? Allora, premesso che il mio ruolo nella vita professionale mi porta a confrontarmi quotidianamente con quelle che sono le problematiche dei lavoratori, diciamo, dar voce a chi non ha la possibilità di esprimere una propria opinione, su Facebook quando mi ero accorto che c'era la possibilità di poter interagire con il primo cittadino di Acquaviva e di interagire per segnalare o dare delle proprie opinioni su delle problematiche di vario genere riguardanti la nostra comunità, avevo ritenuto opportuno aderire a questo gruppo dare la mia partecipazione e quindi ho cercato nel mio piccolo quotidianamente di dare delle segnalazioni, di dare delle mie opinioni personali perché? Perché appunto il nostro sistema giuridico è fondato sulla democrazia, sulla libertà di opinione e quindi io quotidianamente dove c'erano delle situazioni che meritavano degli spunti personali, degli spunti particolari, diciamo quotidianamente aggiungevo il mio, pubblicavo il mio Stato e quindi mi confrontavo, purtroppo devo dire che più che un gruppo aperto, più che un gruppo, come dire, democratico, mi sembrava e mi è sembrato un gruppo incentrato, cioè la bilancia propendeva più da una parte che dall'altra. E ma lei perché è stato mandato via, è stato bannato? Guardi, io... Ha ricevuto il preavviso? Assolutamente no. Con nessun cartellino rosso? Assolutamente no, né giallo né rosso, perché avendo avuto un cartellino giallo, una munizione, mi sarei, diciamo, ravveduto su determinati comportamenti posti in essere dal sottoscritto e quindi avrei cercato di modificare alcuni aspetti, ma... E' sicuro di aver ricevuto una mail, un indirizzo con cui l'avvisavano che aveva usato dei toni aspri, che aveva mancato rispetto a qualcuno? Assolutamente no, non ho mai ricevuto nessuna mail, nessuna segnalazione in tal senso, da un giorno all'altro mi sono, ho scoperto, ho scoperto di essere stato, tra virgolette, cacciato fuori da questo gruppo, eppure, diciamo, mi sono fatto, tra virgolette, un esame di coscienza per capire dove avessi sbagliato, se ho sbagliato, ma ricordando tutti i miei episodi e comunque rivedendo i miei post anche sulla mia pagina, anche di dominio pubblico, perché io ce l'ho aperta su Facebook pubblicamente, io mi limito a segnalare quelle che sono le criticità di Acquavioia delle Fonti. Purtroppo non è colpa mia se Acquavioia delle Fonti ogni giorno è fonte di spunti che appunto davano spazio al mio pensiero e quindi mi esprimevo in tal senso. E' come andare in giudizio, andare davanti a un giudice che sentirsi dire lei ha sbagliato e basta, senza sapere quali sono i motivi, quale regole ha infranto, non è positivo questo dal punto di vista democratico, perché laddove fossero stati commessi degli errori non c'è la possibilità di non commetterli in futuro. Appunto, ripeto. Quindi lei ad oggi non sa che cosa ha combinato? Assolutamente no, non solo non so quello che ho combinato, ma non ho avuto la possibilità nemmeno di un contraddittorio, perché io avrei auspicato che da parte di qualcuno, di qualche amministratore o del sindaco stesso, io non lo so, un contraddittorio per almeno spiegare le motivazioni, per dare la possibilità di un confronto civile e democratico. Dobbiamo però dire che questo gruppo è gestito dallo staff web volontario di Davide Carlucci, non dal sindaco. Ho capito, lo staff web volontario del sindaco, non lo so, sembrerebbe che è uno staff che comunque non va contro il sindaco, non stiamo dicendo che io faccio delle crociate contro il sindaco, però è chiaro e palese il fatto di essere stato cacciato fuori da questo gruppo per aver espresso delle opinioni che andavano in contrasto con quello forse che è l'ideologia politica dello staff del sindaco, dello staff web e via discorrendo e sono stato fatto fuori. Ecco, lei su alcuni argomenti lo pensava diversamente. E certo. E quindi è stato il diverso mandato via, che non ha avuto possibilità di integrarsi, eppure la cultura del centro-sinistra dovrebbe essere integrazione, raccoglimento intorno a delle idee, anche se ognuno porta le proprie, e poi verificarne i contenuti e trovare le soluzioni migliori per tutti, per la comunità. In questo caso invece il risultato è stato che lei ha preso, mi scusi e non è che voglio mancare di rispetto, un calcio nel sedere per intenderci. Sicuramente, purtroppo è brutto dirlo, ma è così, perché alla fine io sono abituato, non faccio il cittadino, non mi piace essere uno spettatore passivo di quelli che sono gli eventi. Nel mio piccolo, compatibilmente anche alla mia attività lavorativa, su Facebook, dove ci sono delle pagine che danno possibilità di interagire e di dare delle proprie opinioni, dei suggerimenti, e a me piace appunto dare il mio contributo affinché appunto si si derivano delle determinate questioni e si portano delle soluzioni. E' pur vero, mi scusi se la interrompo, che laddove ci sono delle pagine che non vogliono che nella propria bacheca vi sia scritto che altri possono scrivere, è da rispettare questo, ma oggi non stiamo parlando, se è giusto o meno, che alcune pagine non diano la possibilità ad altri di intervenire, ma del fatto che lei prima poteva intervenire e poi è stato mandato via. In un gruppo che già dal termine gruppo, che si definisce progetto di partecipazione attiva, in questo caso è stato mandato via in maniera passiva. Certo, non solo, ma è un gruppo che si definisce anche una piazza virtuale. Allora, se parliamo noi di piazza virtuale e quindi intendiamo un luogo di aggregazione, un luogo sociale dove la gente ha possibilità di interfacciarsi, di esprimere le proprie opinioni, allora è come dire che domani mattino usciamo in giardino vicino alla Cassarmonica e qualcuno ci mette il bavaglio perché non possiamo esprimere il nostro pensiero, la nostra posizione. E allora questo non è più democratico, non è più democrazia e non è più un gruppo che ha come spirito, come filo conduttore, quello di dare la possibilità ai cittadini di interagire liberamente e pubblicamente. Perché io non la vedo così, sono la vittima di questa filosofia, al contrario. Ecco, per assurdo lei era attivo. Certo. Ed essendo attivo, in questo progetto di partecipazione attiva, è stato mandato fuori. Sono stato mandato fuori. Perché essere passivo significa mettere il mi piace, senza commentare, senza fare critiche, no? Attivo invece uno che ragiona con la sua testa e vede le cose anche diversamente da quelle che possono sembrare, insomma. Sempre senza mancare di rispetto. Assolutamente. Mi scusi se glielo richiedo, ma è sicuro di non aver mancato di rispetto a qualcuno? Le assicuro, poi non so se determinate terminologie, nei limiti della pulizia del lessico e delle terminologie possono aver leso la suscettibilità di qualcuno. Vabbè, se non ho scrivuto la parolaccia, quella rimane una parolaccia. Non penso che abbia scritto una parolaccia. Assolutamente no. Ecco, allora l'acqua via bellissima la realizziamo insieme. Certo. Visto che lei faceva parte di questo gruppo, spesso, secondo quello che ha detto, andava a fare dei commenti. Insieme a chi? Io facevo dei commenti… No, no, dico, la quale è bellissima, loro dicono, la realizziamo insieme. Lei faceva parte di questo insieme. Sì. Allora, questo spazio virtuale è un forum permanente in cui è possibile dialogare con l'amministrazione, ma soprattutto con gli altri cittadini, cercare un confronto, suggerire idee, valutare priorità. Lei di questo cosa non ha fatto? Io penso di aver dato il mio modesto contributo personale, penso di aver dato, di essere stato propositivo quotidianamente. Quindi suggeriva idee? Suggerivo, davo il mio parere su determinate situazioni. Ripeto, purtroppo non è colpa mia se ad acqua viva le cose non funzionano e quindi io ero costretto o sono costretto ancora, perché tuttora sulla mia pagina Facebook, ed è facilmente controllabile e verificabile, il sottoscritto, quando può, pubblica situazioni che ad acqua viva non funzionano. Lei dice se il dosso mi reca un danno alla mia macchina, io lo scrivo. Certo, io lo scrivo. Se c'è una strada dissestata e purtroppo ce ne sono tantissime. E prendo una bella buca e rimango lì. Io lo esterno. Io lo esterno. Ma la cosa è sintomatica, direttore. Io, poi ecco perché la intreccio anche col primo cittadino questa situazione, perché contemporaneamente a questa espulsione che io ho ricevuto da questo gruppo di acqua viva bellissima, mi sono accorto di essere stato eliminato dalle amicizie del primo cittadino che avevo anche nel profilo, avevo, diciamo, si stringe su Facebook l'amicizia. Ma sono stato anche, dal profilo che è pubblico del primo cittadino, non ho più la possibilità di commentare. Ovvero io verifico i post, ho la possibilità di visualizzare i post che vengono pubblicati, ma non posso commentare. Allora mi chiedo, cosa è successo? Quello dove è scritto sindaco? Sì, dove c'è scritto il nome e cognome del primo cittadino e poi c'è scritto sindaco. Allora, se io visualizzo i post e non posso commentare, qual è la mia partecipazione? Prima lo poteva fare. Prima lo potevo fare. Quindi lei è stato mandato via, la coia partecipa e è stata inibita la possibilità di scrivere su quell'altro contatto. La coia bellissima che vogliamo costruire è di tutti. Di pochi forse. Di tutti? Non di tutti, io sono l'esempio... E quindi tutti devono essere coinvolti. Lei in quale insieme è stato inserito? Io forse sono stato inserito nei cattivi, tra virgolette, perché evidentemente... E non fanno parte anche tutti dei cattivi. Evidentemente, cioè... Se si dice tutti... Eh lo so, lo so. Altrimenti avrebbero dovuto scrivere i buoni. Ecco perché ci sono delle... Cioè non è che voglio fare adesso l'analisi logica. No, no, è chiaro, è chiaro. Però, voglio dire, è un po' grottesco il fatto. Si tratta di un esperimento di democrazia. È riuscito bene secondo lei? La democrazia, almeno a scuola ci hanno insegnato che altro, la democrazia è partecipazione, la democrazia è possibilità di esprimere le proprie opinioni, nella massima serenità e nei limiti appunto del consono e quindi io se mi sono permesso di esprimere determinate opinioni e poi sono stato mandato via, evidentemente di democrazia c'è ben poco, di partecipazione collettiva c'è ben poco, forse c'è la partecipazione di chi continua a foraggiare quelle che sono le idee di qualcuno e quindi a perseguire determinate filosofie politiche. Se qualcuno la pensa al contrario viene tagliato fuori. Non sciupiamo questo strumento ed utilizziamolo con intelligenza e spirito di collaborazione. Ecco, io non voglio abusare del fatto di essere padrone di casa e quindi di farle un'ulteriore domanda che non è altro che una provocazione, che non vuole essere una mancanza di rispetto, ma devo leggere e devo far scaturire delle osservazioni, quindi non me ne voglia e soprattutto non mi butti addosso il microfono perché insomma costa un bel po'. Questo strumento ed utilizziamo con intelligenza, mi scusi, quindi lei ha autorizzato lo strumento senza intelligenza, non so se è chiara la provocazione, o spirito di collaborazione, è spirito, quindi sia una che l'altra, cioè lei ha usato lo strumento senza utilizzare l'intelligenza, senza intelligenza, insomma l'intelligenza ha lasciato da qualche parte, cioè mi dica lei cosa è successo, perché se non ha detto parolacce vuol dire che l'ha utilizzato senza intelligenza e spirito di collaborazione. Ora bisogna interpretare... Sono stato cattivo? No, 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 lei si è limitato. Lei le avrà pensate queste cose? Io le ho pensate. Perché è intelligente, perché se non fosse intelligente non le avrebbe nemmeno pensate, eppure è stato mandato fuori. Guardi direttore... Forse è per questo che è stato mandato fuori, perché ha ragione con la sua testa. E può darsi, forse ci vuole uno psicologo per interpretare il tipo di intelligenza che loro chiedono per partecipare a questo gruppo e quindi capire se è intelligente per qualcuno ai quozienti e non solo, perché forse intelligente è a secondare quello che un altro dice, perché chi magari la pensa in modo diverso non viene reputato intelligente e quindi viene tagliato fuori. Quindi bisogna anche interpretare questo tipo di regole che sono state date, che sono state inserite in questo gruppo, che forse è composto da, non lo metto in dubbio, e ripetiamo in democrazia, da accesi sostenitori di questo tipo di politica. E quindi è un gruppo fazioso, forse, mi permetto di dire. È un gruppo che sostiene e foraggia quelle che sono le idee di pochi, ma non di tutti. Oppure i pochi non hanno la possibilità di dare il loro contributo nella comunità e quindi di far sentire la propria voce. Allora o si pensa in un modo in questo paese, oppure si è tagliato fuori in tutte le situazioni. E questo non mi sembra un modo corretto, un modo idoneo per utilizzare uno strumento come i social network, che reputo utile se viene utilizzato con intelligenza, ecco, ripetiamo questo termine, e con parsimonia anche, perché se viene utilizzato invece in maniera demagogica, in maniera, diciamo, quasi monarchica, non ha più quell'effetto sociale, quell'effetto globale, ma ha un effetto più, tra virgolette, passatemi il termine, dittatoriale. Eppure lei non è stato bannato nel momento in cui ha dovuto confrontarsi con gli organi regionali, per esempio. E infatti il sottoscritto, sempre tramite i social network, ha avuto degli scambi accesi anche con esponenti del Consiglio regionale e sono facilmente verificabili. Ho avuto anche, ho pubblicato, dei post accesi nei confronti anche della dirigenza dell'istituto dove io lavoro e non ho avuto mai nessun tipo di problema, perché mi sono sempre mantenuto con termini consoni a denunciare quelle che erano delle situazioni che ritenevo non legittime. Quindi non vedo perché ad Acquaviva questo non possa accadere, per quanto riguarda Acquaviva questo non può funzionare, è perché se io dovessi dire oggi pomeriggio, stasera, dovessi dire che ad Acquaviva ci sono le buche, ad Acquaviva ci sono i dossi che sono alti e possono rovinare le macchine e lo voglio pubblicare su quel gruppo, vengo tagliato fuori. Ecco, però mi piacerebbe sapere quali altre cose non ha digerito pubblicate su questa cui io partecipa, quali argomenti? Guardi, io sono stato critico e sono ancora critico nei confronti dell'attività posta in essere da questa amministrazione comunale, infatti spesso e volentieri lo esterno pubblicamente. A me non piace questo spirito che c'è, come definirlo, quasi fanatico, nel senso questa difesa spadatratta, a volte dell'indifendibile e quindi quando si cerca di far vedere le cose sotto un altro aspetto, sempre con lo spirito e a volte anche la politica, secondo me, è fatto anche di questo, cioè ci sta pure nella politica e quando si parla del sociale, ci sta questo spirito velatamente critico che serve a punzecchiare, a pungolare anche, per stimolare, però io non ho digerito questo atteggiamento proprio di chiusura, o la pensi come noi o sei fuori e quindi questo, ripeto e ribadesco, secondo me non fa altro che invece di far crescere la comunità, di renderla sempre più ovattata con i paraocchi e alla fine poi i risultati sono all'ordine del giorno, perché poi la gente da una parte si lamenta, non lo può esternare perché magari non può arrivare direttamente a chi di dovere, vuole utilizzare questo strumento che magari può essere utile per far arrivare determinati messaggi, però se ti permetti di farlo, viene tagliato fuori, allora ditemi voi, come si fa? Allora è inutile istituire questi gruppi, non li facciamo proprio, che è meglio? Oppure facciamo dei gruppi dove ci mettiamo una bandiera di chi parteggiamo e sappiamo che quello è il gruppo, o fai così o sei fuori, cioè non ha senso dire che è un gruppo aperto, una piazza sociale, la democrazia, tante belle parole, ma nei fatti, i fatti quali sono? Cioè a me nelle orecchie, io ho ancora l'eco di tutte le bellissime parole pronunciate sulla Cassarmonica in campagna elettorale, parole stupende, parole che facevano presagire a una nuova stagione, una nuova primavera di Acqua Viva, ma qui più di primavera, io vedo un inverno, ma un inverno di quelli pesanti. Concludiamo quindi così questo nostro approfondimento sull'argomento del social network, del contatto del gruppo, meglio dire Acqua Viva partecipa, progetto di partecipazione attiva dove non solo lei ma altri sono stati cacciati come l'associazione Codacons di Acqua Viva delle fonti. E questo me ne duole, perché la Codacons, che è un'associazione come tante altre del settore, che sono dalla parte dei consumatori, e i consumatori chi sono? I cittadini. Quindi se un cittadino non riesce direttamente a segnare determinate cose e si affida a delle associazioni di settore che hanno questo compito, non vedo perché si debbano tagliare fuori anche questo tipo di realtà, allora significa proprio che qua la democrazia non esiste più, cioè non è regolare. Un anziano, una persona che non ha possibilità nemmeno di utilizzare il personal computer e si rivolge a un'associazione come la Codacons per esempio, e la Codacons esterna questo tipo di problematiche anche sui social network, evidentemente viene tagliata fuori perché il suo pensiero differisce da quello di qualche altro, viene tagliata fuori e quindi non si può dare più voce agli anziani, ai meno fortunati, a chi comunque non ha la possibilità nemmeno di interagire col web. Quindi sarà d'accordo, e possiamo concludere sicuramente in questa maniera, che seppur si riuscirà a fare la Coglia Bellissima non la si realizzerà insieme? Assolutamente no, la Coglia Bellissima rimarrà secondo me una chimera, uno spot elettorale, insieme non si potrà realizzare, ma io mi permetto di dire, e la mia opinione rimane tale, che nemmeno con le condizioni attuali, con la squadra attuale che dirige la nave, non si potrà realizzare mai. Secondo me per realizzare una Coglia Bellissima l'unica soluzione è quella di voltar pagina. Ringraziamo lo sacco di questo suo contributo e voi tutti di aver seguito l'approfondimento del Maighe Notizie. Ringraziamo la Coglia Bellissima